Il governo rimette mano alle regole sul lavoro e welfare. Vittoria per Confartigianato, veicoli aziendali esentati dall'obbligo di trascrizione sul libretto dei conducenti abituali. La sfida del credito alle imprese, ne parla al nostro Tg il neopresidente di FedArt Fidi Adelio Ferrari. Al via la Maratona Teleton, Confartigianato in prima linea nella gara di solidarietà. Confartigianato Motori Sistema, una rete per gli imprenditori del settore. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il Tg di Confartigianato. Il Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro firmata dal governo Renzi, è approdata all'esame della Camera. Confartigianato e Rete Imprese Italia mettono in guardia le nuove norme non devono aumentare i costi per le piccole imprese. Il servizio di Lorenza Manessi. Per la terza volta negli ultimi tre anni, in Italia cambiano le norme sul mercato del lavoro e sul welfare. Tre governi, tre riforme. Dopo quella del ministro Fornero nel 2012 e le modifiche del ministro Giovannini nel 2013, tocca ora al ministro Poletti ridisegnare le regole per combattere la disoccupazione e migliorare il sistema di protezione sociale. E così nasce il Jobs Act, un disegno di legge delega varato nei giorni scorsi dal Senato e ora all'esame della Camera. Un provvedimento molto ampio che, una volta approvato dal Parlamento, dovrà essere attuato con una serie di decreti. Tanti capitoli che compongono la riforma, nuove forme contrattuali e nuove regole per i rapporti di lavoro, riordino degli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive per far incontrare domanda e offerta di lavoro, fino a un ripensamento degli interventi per la conciliazione e lavoro famiglia. Obiettivi giudicati ambiziosi da Confartigianato e da Rete Imprese Italia, che considerano la riforma un'occasione importante per semplificare e razionalizzare le regole sul lavoro. Ma è anche subito scattato un alto là. Il Jobs Act non deve provocare aumenti dei costi per le piccole imprese e sul fronte degli ammortizzatori sociali vanno tutelate le buone pratiche maturate per il sostegno al reddito. Raccomandazioni che sono state espresse dal segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, nel corso di un'audizione alla Commissione Lavoro della Camera, svoltasi il 28 ottobre e presieduta dall'onorevole Cesare Damiano. Segnalo questo caveat, quella di riuscire nell'obiettivo di non andare alla conclusione di questo processo di riorganizzazione della regolazione del mercato del lavoro ad aggiungere costi in capo alle imprese. Per quanto riguarda l'artigianato, attraverso la bilateralità e gli enti bilaterali, sono stati costruiti strumenti di ammortizzatori molto su misura. Chiediamo un'attenzione a salvaguardare quelle specificità che hanno alle spalle anche una dimostrata storia positiva. Se riforma deve essere, per Confartigianato e Rete Imprese Italia vanno anche riorganizzati i servizi di collocamento, collegando strettamente le misure di sostegno al reddito con il reinserimento nel mercato del lavoro. E sul fronte dei nuovi contratti devono essere salvaguardate le numerose forme contrattuali, anche flessibili, utili alle specifiche esigenze organizzative delle piccole imprese. Torniamo a parlare di un nuovo adempimento burocratico, entrato in vigore in questi giorni, che sta facendo discutere. Dal 3 novembre, cittadini e imprese che affidano un automezzo a una persona diversa dall'intestatario per un periodo superiore ai 30 giorni, sono tenuti a far annotare il nominativo sulla carta di circolazione pena pesanti sanzioni. Almeno questo era quanto si evinceva da una circolare fiume del Ministero dei Trasporti di ben 47 pagine. A seguito dell'intervento di Confartigianato, i tecnici ministeriali hanno emanato il 27 ottobre una nuova circolare che interpreta la precedente, introducendo importanti esenzioni per le imprese e gli imprenditori individuali nel caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali. La circolare chiarisce che la norma non si applica nel caso di utilizzo di veicoli in modo non esclusivo da parte di dipendenti, soci, amministratori e collaboratori dell'azienda. Una vittoria del buonsenso, targata Confartigianato, che libera le imprese da un nuovo adempimento complesso e costoso. La contrazione del credito bancario alle piccole imprese. In questo difficile scenario, Adelio Ferrari, dirigente di Confartigianato, è stato nominato presidente di FedArt Fidi, la più grande associazione italiana ed europea di Confidi, che attualmente offre garanzie per oltre 14 miliardi a più di 700 mila imprese. Lo ha intervistato per noi Ivan De Menego. Presidente, dall'analisi dei prestiti alle imprese artigiane, si evidenzia che a giugno c'è ancora una diminuzione cospicua dei fondi, pari a circa 1 miliarde e 491 milioni, praticamente 1 miliarde e mezzo di euro, rispetto allo scorso anno, circa il 3% in meno. Però se da una parte le aziende e i privati lamentano l'impossibilità di accedere al credito, dall'altra parte le banche denunciano l'assenza di domanda. Ora, dove sta la verità dal suo punto di vista? La missione numero uno per quanto riguarda chi rappresenta i Confidi e quindi le aziende è quella di poter dare ossigeno alle imprese che senza quel minimo di credito e quel minimo di liquidità sono destinate a morire. Tutti sanno, ed è stato detto anche nell'ultima convention di Riccione dai funzionali di Banca d'Italia, che le banche prestare soldi alle aziende non è più remunerativo. finché questo trend, e c'è una bella forma, un grafico molto semplice ma significativo di una forbice secca tra le banche che prestano e investono i titoli di Stato che cresce e le banche che danno i soldi alle aziende che è in netta diminuzione. Finché non si toglierà questo tipo di andamento, le cose non cambieranno. Quindi è nostra premura, è premura dei nostri Confidi, è premura soprattutto delle nostre aziende incidere sostanzialmente sul governo e poi sulle banche per cambiare questo trend. Quali sono le sfide che deve affrontare Federtfidi? La sfida molto concreta e pragmatica che Federtfidi deve fare in questi anni è quella di dare risposte esaustive alle aziende, quindi riaprire i rubinetti del credito in accordo con le banche, con il sistema delle banche e con l'ABI e con il governo. Questa è l'unica mission che mi sento di esprimere e metterò a tutte le mie forze, quelle del Comitato Ejecutivo e del Consiglio per cercare di ottenere un risultato positivo di questo genere. Tutte le altre cose, stiamo operando sulla legge di stabilità delle modifiche, stiamo operando sul Fondo Centrale di Garanzia in modo che non sia soltanto e prettamente a disposizione delle banche o le banche facciano direttamente loro il Consiglio anche perché noi abbiamo sicuramente le professionalità migliori per poter usufruire di questo fondo e soprattutto cercare di rendere semplice la vita dei nostri artigiani. Sta per partire l'edizione 2014 di Teleton, la campagna di raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare che colpiscono 2 milioni di italiani. Quest'anno il claim dell'iniziativa è il cuore come la ricerca non si ferma mai. Confartigianato insieme con Artigian Cassa si impegna a raccogliere risorse a sostegno del progetto condotto dalla dottoressa Maria Pia Passafaro dell'Istituto di Neuroscienza del CNR di Milano riguardante le mutazioni di un gene che determinano gravi forme di disabilità intellettiva. Nelle prossime edizioni del Tg dedicheremo un ulteriore approfondimento all'impegno di Confartigianato al fianco di Teleton. Confartigianato Motori Sistema, la rete per gli imprenditori e artigiani dell'autoriparazione, sta muovendo i primi passi. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Confartigianato Motori Sistema inizia a muovere i primi passi. Se in occasione del Gran Premio di Monza erano state presentate le prime iniziative, con la diretta streaming del 29 ottobre i responsabili del progetto hanno presentato il piano per accompagnare le imprese dell'autoriparazione verso un futuro fatto di tecnologia, reti tra imprenditori ed opportunità di sviluppo economico. Forte dell'esperienza quasi trentennale del premio assegnato ogni anno dall'Associazione di Monza, Confartigianato Motori Sistema punta su un portale dove gli imprenditori potranno scambiarsi esperienze ed idee, ma soprattutto dove potranno trovare un sistema di e-commerce in cui acquistare a prezzi scontati i pezzi di ricambio e i servizi offerti dalle società partner del progetto. Un progetto trasversale, oggi parte da Confartigianato Autoriparazioni, però è un progetto spendibile su tutti gli altri settori del nostro mondo, dell'artigianato e porta all'interno tutta una serie di vantaggi, sia per noi autoriparatori, sia per il sistema di Confartigianato, ma soprattutto anche per l'utente. Il mondo dell'autoriparazione sta sperimentando questo format, fatto per coinvolgere territori e per essere replicato da altri settori dell'artigianato, guardando con convinzione ad un futuro migliore rispetto al presente che stanno vivendo le imprese italiane. Siamo pronti a questa sfida perché riteniamo che nel terzo millennio ormai sono state superate le logiche dell'autoriparazione fatte in un certo modo, se non ci aggiorniamo attraverso banche date e tutto quello che serve rispetto alle cose che vogliamo fare non andiamo da nessuna parte. Roma, 13 e 14 novembre, convention delle categorie, appuntamento annuale di Confartigianato sulle nuove opportunità per i diversi settori dell'artigianato e delle piccole imprese. Siamo in conclusione e come al solito vediamo insieme le rilevazioni dell'ufficio studi di Confartigianato nella nostra rubrica il numero della settimana. Allora 255.107 è il numero dei lavoratori dipendenti persi dall'artigianato tra il 2008 e il 2014. Facciamogli i nostri auguri. Allora l'appuntamento è come al solito per lunedì prossimo sul sito di Confartigianato alla stessa ora. Buona settimana e buon lavoro! Grazie a tutti!